L'olandese che adesso calce a sinistro e c'è un grandissimo intervento, arriva Edin Dzeko per il 3 Ha calciato benissimo con il sinistro Sì, Strootman è sempre in appoggio ai compagni C'era stata la gran botta da parte di Kevin Strootman che ha calciato benissimo con il sinistro L'azione si ritaglia, questo spazio centrale poi scarica il sinistro L'ha stato devo dire anche molto bravo il portiere Cerechini Ancora Dzeko all'interno dell'area di rigore e fa 5-0 Qui un po' distratta devo dire al di là Insomma Krim un po' distratta la difesa del Pinzoni Krim un po' distratta la difesa del Pinzoni Buona girata per Mario Rui, tra qualche istante andremo a bordo campo Il cross per Dzeko che fa 6-0 Proprio sul terzo gol di Edin Dzeko Sì, bellissima questa azione, un bellissimo cross Perché dovessi vedere insomma quanto si è arrabbiato Perotti Quando prima non è riuscito a saltare l'avversario No, ha fatto il suo solito muro E qui le giocate alla Diego Perotti che la mette il colpo di testa Dzeko, quarto gol per il Dzeko Quarto gol per il Bosniaco Che insomma sto facendo uno slalom nel mio Un'occhiata in avanti Poi riesce a toccare il pallone per Totti di prima Grandissima giocata per Dzeko 2-1 Roma subito in vantaggio Con il gol di Edin Dzeko Giocata sublime del capitano No, ha fatto No, ha fatto No, ha fatto No, ha fatto Adesso Dzeko Prova a mettere giù il pallone Agancia molto bene Dzeko cancia Con il sinistro Fa centro Ed in Dzeko Alla ventottesimo Che sia questa adesso La sua stagione Gran conclusione Sì bravissima A controllare il pallone Ancora una volta Mentre però a nudo Quelli che sono I difetti Della difesa Di Glock Fischer che sbaglia Adesso Arriva a dire Perotti L'appoggio per Dzeko La conclusione Da parte di Ed in Dzeko Che va a realizzare Adesso il gol Dell'1-0 La mette alle spalle La conclusione Da parte di Ed in Dzeko Che va a realizzare Adesso il gol Dell'1-0 Il rischio di subire i gol Così è stato Perotti bravo Nello scarico per Dzeko La testa La mentalità Con la quale La determinazione È iniziata questa stagione Già dal ritiro Di Pinsolo E proprio Dzeko Va in gol Sbloccando il risultato Ora siamo a 35 metri Dalla porta Strootman Nel limite dell'area Esciarawi Tocca per Dzeko Tocco Delizioso Il pallonetto Di Ed in Dzeko 2-0 Al quarto d'ora Dzeko Potrebbe provare il tiro Si libera Dzeko Il pallone sul secondo palo Interessante Per Salah Che può arrivare Salah Un'occhiata in mezzo Dzeko Gol E ancora Dzeko Quarto gol in partita Siamo troppo bassi Però non va bene Siamo troppo bassi Però non va bene Siamo troppo bassi